musica musica mamma mia ma che cosa? ma che cosa? 50 chiamate perse fammi rispondere fammi vedere chi è me la moccacchita e becchitaci chiamate 50 voto cosa è successo a salsiccia napoletana si hanno picchiato a gianfranco stanno rannapene morto annaccio a cattarello sta in tribunale aspettate un attimo che venga tutti eccomi eccomi che è successo hanno arrivato appena morto gianfranco ma romano che ha fatto il ma che ne so ha picchiato al capo e c***o nella vecchia in che senso allora praticamente questa vecchia ha ritta a chiesa gianfranco ha detto ma tu che vai a fare in chiesa e poi gianfranco non credendo la vecchia ha detto c***o mia gianfranco si è incazzato e l'ha picchiato a c***o e ora stanno arrestando e hanno appena morto mannaggia mannaggia la miseria ma allora era vero quando ha detto come un uomo da c***o ma c***o non c***o 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 oh all'anima che te biechi che questo non c***o vieni a prendere un freddo e vieni a chi se c***o mannaggia c***o ma si può sapere che sta passando che la c***o ma che ne sa chi le balle buona prende e perde la c***o mettere il c***o c***o è vecchia mannaggia c***o mannaggia c***o non c***o nooo ma poi non c***o ma non c***o passiamo pure il bar che è ancora ripicato il caffè ma non c***o ma non c***o che c***o da pizzeria e mi faccio pure il caffè faccio morreno ma non c***o ma non c***o ma non c***o ma non c***o non c***o non c***o non c***o non c***o ma chi è robato devi guardare non c***o ma che sta succedendo ma c***o ma è sempre tu sta sorgendo un po' che scomoda ma non c***o ma chi sto tenendo è l'avvocato l'avvocato non ci piace ci piace la pizza non l'avvocato non l'avvocato Ah, ecco una saccia di te Guardi, però a me se questo passo non vuoi, ma non sa l'occhio nostro Eh, ti hai ragione di uscire, se non mi fanno una brutta fine Ora, ho gli occhini riempiti con questo E allora, che ti ho fatto? Un compagno di due Che a noi, chi è venuto qua? Allora, siamo pronti qua? Eh, me l'hai ricevuto, ho voluto uscire, sì o no? Guardi, compagno è merda questo Ma state ziti, a noi ci stiamo rinnovando la mano Allora, questo individuo ha pigliato una vecchia, ha capito il culo e l'ha sceso, ha capito il mucco Ah, pure ha capito il mucco, non ci bastava il culo, pure la mucca Quindi, allora, lo uccideremo Oh, ma in serio? No, io non so che cosa fai Eeeh, è giusto ma, è giusto ma, è giusto ma E la stima, eh, se la stima non va in paradiso, va all'inferno No, no, se la stima, secondo me, è pur l'anno muovendo, truando E vabbè, ma chi è questo? E adesso vi faccio vedere io come fare Basta premere uno di questi pulsanti E la me lo sto annacciando, che mi fa? Ma annaccia che dalle pepe, mi fa il nostro piano Ok Il signore, quali sono le tue ultime parole? Fa un boccacchita e muore Va boi, annaccia che dalle tue noci da Gianfranco Gianfranco ha iniziato al luogo in coppia prima che ti asciugano Ma annaccia che dalle tue nuove Vattene al luogo, vattene Sto facendo una brutta fine Oh! Mamma mia! Sei chiusata appena in tempo Ehm... 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 Veloce Ehm... 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 Vieni con noi Gianfranco, veloce, va, e c'è tra la stessa macchina, perché la macchina misura le salsicce. E mettetelo in tuo cuofo, non vuoi caccia la madre nuova. Salsicce napoletana, tu che devi fare? Io, io volo via, sono diventato, stasera mi sento una farfalla. Arrivederci ragazzi, io volo via, io volo via, pura batteria vola via. Ma te stanno arrivando gli sbirri? Mannaggia, managgia, adesso fermi, mettete tutti quanti le mani in alto, che facciamo? E che cacchina so? So io come fare, Fiocchetto! Perché sta l'uccoando Fiocchetto, ma che ne sa, c'è chi sta chiamando? Raga c'è qualcosa dietro la mia schiena, gli sento un respiro. Fiocchetto tu avevi fame, vero? Ok, allora buon appetito, io e me la scena andiamo. Tengo paura, mi gira. Vabbè ragazzi, tanto non morde. E infatti questo non morde, questo ammazzo di attamento. All'anime che debbi è? Aiuto! Ma tu, sto sopravvissuto, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo. Cacchio, questo ci mangio, questo ci mangio. Ma poi sono morto tutti quanti, guarda mani, a chi sta... Ah! Ah! Mi sta mangiando! Alla nemmeno i debbi, ecchio. Vai Peppe, parti! Aspetta, devo capire un attimo come funziona, vai! Ah ma questo trerro di quella canzone che dice La tua giornata, la storia, è proprio lui, è un muro, no! Oh!